Penso che nel punto più largo forse sia cosa sarà due metri due metri e mezzo due metri 60 70 non so Dopo lo spianto di ieri 60 70 non so Non so Ci riprovo Questa volta dall'altra parte sto salendo questo è un No, no. No, no. No, no. No, no.